Domenica 23 febbraio presso il Centro Diagnostico Europeo dalla Rosa Prati si è svolta la manifestazione di presentazione della nuova formazione dilettantistica categoria Juniors che indosserà la maglia verde-arancio del team Airone nella stagione 2014. Dopo gli apprezzabili risultati ottenuti nel 2013 questa nuova stagione inizia con significative ed importanti novità. La principale è che il team ha avarcato i confini regionali allargando l'orizzonte di competenze sportive al Trentino Alto Adige. Si è infatti concretizzata la possibilità di inserire nell'attuale organico di quattro atleti guidati dal direttore sportivo Erminio Folloni, una pattuglia di 11 atleti Juniors del secondo anno più un allievo ed un atleta allieva donne sotto la guida del DS Alessandro Coden. Da questo rinnovato team di 15 atleti di ottima qualità guidati dai due esperti direttori sportivi ci si aspetta un'annata ricca di soddisfazioni per tutto lo staff, dai ragazzi, ai dirigenti, agli sponsor che fino ad oggi con il loro apporto fondamentale hanno sostenuto la squadra. La nuova stagione 2014 è infatti resa possibile grazie appunto a tutti quegli sponsor che hanno riconfermato il loro sostegno ma anche grazie al prezioso ed importante ingresso di nuovi sponsor come Campane Imballaggi, Manica SPA e gli sponsor tecnici Ursus per le ruote, Merida per le bici e MM per l'abbigliamento. Alla manifestazione inaugurale erano presenti oltre agli atleti e ai loro familiari, allo staff tecnico dirigenziale e dagli sponsor anche personaggi del ciclismo professionistico parmense di ieri e di oggi che hanno espresso i migliori auguri ed un grosso in bocca al lupo per un vittorioso 2014. Si sono infatti succeduti al microfono dell'appassionato Stefano Bertolotti ex professionisti come Claudio Torelli, Luciano Armani, Claudio Rio, Emilio Casalini, Ercole Gualazzini, Gianpaolo Zini, Erminio Rizzi, Ottavio Marchesi, Florinda Parenti ed il campione del mondo Vittorio Adorni. Anche da parte di Luca Dodi al terzo anno di professionismo è arrivato un saluto benaugurale ai giovani atleti del team Mayrone, pronti anche in questo 2014 a volare sulle piste.